Allora, oggi che prepariamo? La fettata delle patate e un po' di erbette anche, una fettata un po' particolare, aromatizzata, con tutte le cose dell'orto. Erbette nostre. Erbette dell'orto. Sì. Patate dell'orto, l'ho già detto. Uova della nostra gallina. Non ne ha cocò. Buona. Vediamo come si mette. Bucciamo le patate. Avrebbe meglio più fini, però. Questo è l'origoro fresco dell'orto. Questa è la menta. Buona, è perfumata. E questo è il timo. Innanzitutto friggiamo le patate, anzi, soffriggiamo le patate in un po' d'olio, di semi, d'oliva meglio. Mentre le patate friggono, apriamo tre uova per due persone. Questo è un piatto per due persone. Tre uova e mischiamo alle erbette. Aggiungiamo un po' di sale e un po' di latte. Sbattiamo il tutto. Quando le patate sono dorate, le scoliamo. Mh, molto patate. Aggiungiamo le patate alle uova. Giriamo. Adesso buttiamo le patate alle uova dentro l'olio caldo. Per farla cuocere bene, la frittata, serve fare questo tipo di lavorino qui. Ecco. La lasciamo solo cotta da una parte. È proprio gustoso. Buonissimo. Dedicato. Buono. Grazie a tutti. Grazie a tutti.